I nostri amici a quattro zampe ci fanno sempre più compagnia nella vita di tutti i giorni e soprattutto fanno più compagnia anche ai senior, agli over 65, insomma sono parte integrante ormai della nostra famiglia. Quanto è importante l'igiene orale dei nostri amici a quattro zampe per consentire a loro di avere anche una vita migliore e di farci compagnia in maniera più tranquilla, insomma? Esatto, i pet ad oggi sono sempre più presenti nelle nostre famiglie e apportano numerosi benefici a tutte le persone, quindi sicuramente anche una fascia di pubblico senior. Cani e gatti hanno delle esigenze per quanto riguarda l'igiene orale e affronteremo proprio i temi dell'igiene orale, cosa è importante per una corretta igiene orale nel cane e nel gatto e quale sono le regole d'oro per garantire il benessere nel cane e nel gatto dal punto di vista orale. Ha parlato di regole d'oro, il nostro Felix o il nostro Fido a casa, come facciamo poi a convincerli, perché poi bisogna anche avere un rapporto con loro assolutamente, a convincerli ad avere una corretta igiene orale? Allora sicuramente quello che è fondamentale sarebbe spazzolare i denti del proprio cane ed è anche ciò che i medici veterinari specialisti in odontostomatologia raccomandano come regola numero uno. Secondariamente sono importanti dei check-up regolari dal veterinario, in genere una volta all'anno, ma può dipendere ovviamente dalle esigenze del proprio cane. Inoltre esistono in commercio anche dei validi aiuti degli alimenti e degli snack che possono andare a portare dei benefici a livello di generale. Mi riegancio all'ultimo suo concetto, è importante quindi anche l'alimentazione, perché una corretta alimentazione aiuta, una corretta igiene orale aiuta a un mantenimento di una sana dentazione. Esatto, è importante innanzitutto che il cane o il gatto assumano un'alimentazione completa e bilanciata e inoltre ad oggi in commercio ci sono anche dei prodotti che vanno ad apportare dei benefici proprio sull'igiene orale.